ciao ragazzi bentornate in un nuovo video sul mio canale oggi è un nuovo video per presentarvi una nuova azienda ma prima di iniziare come sempre se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella giù nell'info box come sempre troverete tutti i link inerenti ai miei social come instagram che sono sempre fortuna fashion makeup ma come sempre troverete tutte le informazioni inerenti a questo video oggi vi presento un'azienda di skin care un'azienda che vende prodotti coreani e di appunto di skin care l'azienda in questione è l'azienda stile vana eccolo qui il pacchetto che l'azienda gentilmente mi ha contattata devo dire che sono stata veramente molto felice la quale mi ha chiesto se avrei avuto piacere di parlarvi sui miei social i loro prodotti parliamo appunto di skin care coreana io tra l'altro adoro la skin care coreana ne ho sempre sentito parlare bene in generale di varie tipologie ma provarlo su me stessa non vedevo l'ora di provare appunto qualcosa su di me i prodotti sono veramente tanti e sono veramente molto contenta per questo ed eccoli qui ma ovviamente vi lascio un codice sconto che l'azienda gentilmente ha mi ha rilasciato per voi di un 10 per cento di sconto che vi scrivo qui in sopra impressione ma anche giù nell'info box che appunto il codice è inf 10 f f m e avrete appunto nel vostro ordine il 10 per cento di sconto quindi ad ogni ordine poi aggiuntivo potrete avere anche il 15 per cento se l'importo del dell'acquisto supera i 59 dollari e così via quindi giù trovate anche tutti i prodotti che appunto mi hanno inviato i nomi e appunto troverete tutti i prodotti che appunto mi sono stati inviati ma io direi subito di andare avanti e farvi scoprire i prodotti allora il primo prodotto che vi vado a mostrare è una crema viso al melograno già le scatole sono qualcosa di particolare sono tutte scatole che poi vedrete tutte diverse fra loro tutte colorate tutte veramente troppo sfiziose e al melograno all'interno è fatto in questo modo qui lo scatolo all'interno della scatola troviamo una spatolina per prelevare appunto la crema in modo molto più igienicamente e questa è la boccetta della crema molto molto bella ragazze non so voi ma questa boccetta mi fa ricordare la boccetta di miele di winnie pooh non so perché ma adoro è una crema da 30 ml mi sembra di avervelo detto sì ed è a una profumazione molto delicata buonissima ecco qua fatta in questo modo qui è pastosa quindi non scivola via si troppo bella odore eccezionale veramente buonissima che ovviamente ve ne parlerò man mano che proverò tutti i prodotti o in un video comunque su instagram poi abbiamo una maschera viso una maschera viso al ai mirtilli sapete che io adoro le maschere viso quindi mi hanno proprio probabilmente avranno visto sui miei social le maschere che appunto io utilizzo sia su instagram che appunto è capitato che mettessi dei post su instagram ma anche soprattutto su youtube che io appunto ne utilizzo veramente tantissimo poi un sun gel con spf 50 praticamente questa è una crema viso ed è a gel ed è il packaging è fatto così molto molto bello come potete vedere semplice ma nello stesso modo elegante secondo me per essere una crema comunque per il mare poi abbiamo una maschera labbra al mango e mango e papaya che è fatto così la confezione esterna che adesso vi vado a mostrare come è fatto così che non ho mai provato una maschera labbra quindi questo sarà sicuramente un modo per provare prodotti nuovi come maschere anche per le labbra poi abbiamo un peeling gel al limone che troppo bello secondo me è veramente una cosa particolarissima che non ho mai provato un prodotto un peeling gel al limone si presenta in questo modo qui che ovviamente ve ne parlerò più in avanti andiamo a scoprire il profumo io adoro i prodotti con la profumazione aglomata lo sapete diamo anche un po la consistenza vediamo mi sembra si si sente tantissimo la profumazione del limone no vabbè si presenta così una crema molto fresca e ha questa profumazione di limone delicatissima e sotto si sentono tantissimo appunto perché essendo un peeling tutte queste vedete tutte queste particelle che vanno a fare il peeling vedete man mano che andate a massaggiare fuoriescono i componenti per appunto fare un peeling bene veramente bello mamma mia non vedo l'ora di provarlo io poi d'estate ne faccio tanti soprattutto per per il corpo e va man mano man mano a togliere tutte le impurità che si possono trovare sulla pelle facendo appunto appunto un peeling massaggiando sempre ultimo prodotto è questo che è un tonico all'uva verde praticamente ed è un tonico per il controllo dei pori non ho mai utilizzato una cosa del genere all'interno la scatola è fatta in questo modo qui anche qui abbiamo un pegagino veramente qualcosa di particolarissimo cioè troppo bellina che non vedo l'ora di provare si presenta in questo modo qui veramente bello ora io ovviamente sono curiosa di sentire il profumo mamma mia quanto è buono no vabbè molto delicato molto molto delicato e non vedo l'ora di provarlo troppo troppo bello e questo è quanto ragazze io spero che il mio video vi abbia fatto comunque un po' di compagnia ringrazio tantissimo l'azienda per avermi omaggiata di questi prodotti veramente uno più buono dell'altro non vedo l'ora di metterli alla prova vi farò sapere comunque nel percorso del tempo come mi troverò con questi prodotti sia qui che su instagram quindi mi raccomando seguitemi anche lì e che dirvi mi raccomando aprite le info box per chi troverete tutte le informazioni sia per quanto riguarda i miei social come instagram così venite a sbirciare venite a curiosare anche lì sui prodotti in questione ma soprattutto vi lascio il codice sconto del 10% per acquistare i loro prodotti che vanno per nomea che comunque i prodotti coreani sono ottimi e quindi io ovviamente sono curiosissima di provare io vi ringrazio per aver visto il video mi raccomando spolliciatevi in su iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e vi mando un grande bacio e noi se volete ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao 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 ciao